Secondo l'esperienza del Meeting Salute, siamo partiti con grande entusiasmo a settembre dopo l'esperienza 2017 con tutti gli interlocutori che sono venuti al Meeting e che si sono messi a disposizione per strutturare progetti, eventi, team tank, mostre, vari ambiti in cui poter dialogare con i pazienti, con i care giver e con tutti gli interlocutori del mondo della salute. Gli incontri saranno strutturati principalmente dentro l'arena della salute, quindi 19 appuntamenti dove ci saranno tre relatori e un moderatore, nomi importanti del nostro sistema paese, dal professor Valtteri Ricciardi fino all'assessore alla sanità Stefania Saccardi, Roberto Bernabeve per quanto riguarda la cura dell'anziano e le famiglie, come si rapportano alla cura degli anziani, Gianfranco Gensini per tutto quello che è la novità delle tecnologie, della telemedicina, dell'intelligenza artificiale, interlutori come Amazon, IBM, piuttosto che Cineca, fino ad arrivare anche ad aree specialistiche di la sordità, piuttosto che l'Alzheimer, la cura delle ossa, l'ossocorosi, quindi, e anche la nutrizione, la nutrizione è un aspetto fondamentale per tutte le famiglie, non soltanto per i pazienti, quindi dal bambino fino ad arrivare all'adulto qual è il corretto stile di vita e quali sono i corretti stili di nutrizione. Avremo un bar per la prima volta della salute accanto al fast food. Oltre a questo ci saranno bellissime due mostre, una mostra sul professor Rastelli e una mostra sulla professoressa Sessely Sanders sul comparto del dolore, promosse dai ragazzi dell'università di medicina e dal banco farmaceutico. Saranno presenti anche gli amici di medicina e persona all'interno dello spazio Meeting Salute.